Ciao, sono Aurora e ho 27 anni e abito in un paesino vicino Malpensa. Oggi sono qui per raccontarti la mia storia. Sono una persona estremamente fortunata perché sono circondata da persone che mi vogliono bene. Ma comunque nella mia vita ho affrontato molte sfide, tra cui la dislessia, la discalculia e la disortografia. Tuttavia ho dimostrato di avere una forte determinazione e di non arrendermi di fronte alle difficoltà. Un'altra grande sfida che sono riuscita a superare è l'obesità grave. Sì, perché fino a qualche anno fa ero molto grossa, ma anche lì non mi sono data per vinta. E nel 2019 sono stata operata di sleep gastrettomy, riuscendo così a ritrovare me stessa. Sai, nonostante tutto ho trovato la mia passione nel settore per cui ho studiato e che amo. Ma ancora di più importante è il fatto che ho deciso di intraprendere una nuova attività che mi sta dando la possibilità di crescere e di svilupparmi come persona. Questo lavoro, questa attività si chiama network marketing, il mio posto felice. A me piace chiamarlo così, che è PM International, dove sto costruendo un team di persone che possono tirare fuori il meglio di se stesse e che possono lavorare insieme per raggiungere gli obiettivi. Dove sto crescendo economicamente, dove la mia salute non è mai stata così migliore e dove mi sento appagata ed apprezzata per il lavoro che sto svolgendo ogni giorno. In questa azienda, in questo team, c'è posto anche per te. E spero che le mie parole ed il mio entusiasmo ti abbiano incoraggiato ed incuriosito per conoscere meglio questa attività che è Fitline. Ti saluto e spero di conoscerti presto. Ciao da Aurora!